Buonasera comandante Antonetti, buonasera. Sono contento che mi hai chiesto se erano aperti di nuovo i corsi di vela latina. E ti ho detto, i corsi li abbiamo aperti, li abbiamo aperti provvedeci al trofeo Edoardo De Martini. Sai che in questo periodo, il secondo weekend di settembre, qua a Sorrento si celebra una festa dell'area. Siamo giunti alla 28esima edizione, siamo quasi alla trentesima, se Dio vuole che ci dà la forza faremo anche la trentesima. Ma questi corsi propedeutici hanno avuto un epilogo eccezionale, perché quattro giovani ragazzi, tra cui una donna, sono venuti da Marina di Cameronte tutti i giorni con l'automobile per seguire questo corso di tre ore fatto da un lasso vela all'imperonista. È stata una cosa, come diceva Beini, esilerante. È esilerante, perché dormivano quasi in macchina, hanno mandato una ruota, sono andati fuori strada il primo giorno, sono ritornati comunque, io li ammino moltissimi. Anche perché non avevano mai usato un vero latino e alla fine del corso erano abili, prodieri, abili grandisti. Sapevano tenere il mare. Sapevano tenere, hanno studiato un po' che cosa fa la passione. Che cosa fa la passione e peggio che sia quello che dovrebbe animare queste nostre trentesime, smuovere tutte queste trentesime, pieni di vita e di passione. Grazie comandante. Grazie a voi.